Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi creiamo insieme il lievito madre. È una preparazione lunga ma molto semplice che offrirà dei risultati molto appaganti. Il lievito madre si utilizza per creare pani, dolci e perfino le pizze. Le prime tracce di questo impasto risalgono al 3000 a.C. durante il periodo egizio. Loro usavano infatti lasciare una giornata intera a temperatura ambiente, l'impasto di acqua e farina, e successivamente cuocerlo ottenendo un pane che era molto più gustoso, con una crosta croccante e un interno bello morbido. Prima non si faceva nulla di tutto ciò, semplicemente l'impasto di acqua e farina veniva cotto su una pietra calda e si otteneva un pane azimo molto croccante. Oggi chiamiamo lievito madre l'impasto fermentato che permette lo sviluppo di batteri e fermenti lattici adatti alla lievitazione. È fatto di due semplici ingredienti, acqua e farina, alle quali viene aggiunto un agente attivatore, che può essere dell'uvetta, del miele oppure dello yogurt. In questo video vi proponiamo una guida completa, con tutti i segreti e i più piccoli passaggi per creare un lievito madre con molta semplicità a casa propria. Iniziamo! Prima di tutto chiariamo il concetto di farina, un prodotto che si ricava dalla macinazione dei cereali e ne esistono differenti tipologie, distinguibili per la granulometria, ossia la dimensione dei granelli, e per i contenuti nutrizionali, amido, proteine, minerali e fibre alimentari. Anche le caratteristiche visive sono diverse. La farina 00 è bianca, mentre le altre farine hanno un colore gradualmente più scuro. Suggeriamo caldamente di utilizzare una farina di tipo 2. È una farina che presenta ottime caratteristiche nutrizionali, ed è più facile da lavorare rispetto alla farina integrale. Il miglior compromesso per una panificazione naturale. Inoltre, essendo macinata a pietra, come la nostra, le macchine, lavorando a bassa velocità, non vanno a sorriscaldare la farina, lasciando intatti tutti i principi nutritivi. Questa farina ha un maggiore quantitativo di componenti fibrose. Come si nota, il livello proteico è del 13%, il minimo per creare la pasta madre. All'interno di una ciotola, mettiamo 100 g di farina di tipo 2 macinata a pietra di grano italiano, 50 ml di acqua naturale non dal rubinetto, ma depurata o dalla bottiglia a temperatura ambiente, e per aiutare il lievito madre a svilupparsi, aggiungiamo mezzo cucchiaino di miele biologico. Iniziamo a mescolare con il cucchiaio, poi, quando faremo fatica, impasteremo con le mani. Trasferiamo l'impasto sul piano da lavoro e continuiamo a lavorarlo finché diventerà liscio e omogeneo, per circa 2 minuti al massimo. Ricordiamo che si tratta di un organismo vivente che può crescere, ha un sistema immunitario, può riprodursi e può morire, e tutto a partire da due soli ingredienti, farina e acqua, a cui si può aggiungere un agente attivatore, come il miele, l'uva passa e lo yogurt, per ottenere un buon lievito madre. Una tecnica di lavorazione consiste nel mettere la piega verso l'alto e arrotolare su se stesso il salsicciotto. Concludiamo pirlando l'impasto e formando una palla. Prendiamo un vasetto cilindrico dal volume di 400 ml circa, lavato solamente con acqua calda senza utilizzo di nessun detersivo per piatti, trasferiamo la pallina all'interno del vasetto e schiacciamo leggermente. Prendiamo un pezzetto di garza sterile e la adagiamo sull'imbocatura del vasetto. Infine, fissiamo con un elastico. Utilizziamo la garza perché è traspirante. Data la presenza di batteri, l'aria deve girare. Con un altro elastico, fissiamo il livello di partenza della pasta madre. Mettiamo il vasetto in cucina a temperatura ambiente lontana da fonti di calore per 48 ore. Dipende dalla temperatura della cucina. In inverno può stare anche 3 giorni. Per la creazione e per i primi due rinfreschi consigliamo di utilizzare un vasetto stretto e alto, così si forma poca crosta e ne butteremo il minimo indispensabile. Proseguendo, chiariremo questi concetti. Eccoci qua dopo 2 giorni, a quasi raddoppiato di volume. La fermentazione è avvenuta correttamente e si sono formati moltissimi alveoli e bolle. Ciò significa che è aumentata l'acidità e stanno iniziando a crescere i batteri, trasformando gli zuccheri in amidi. Togliamo la garza e guardate che crostone si è formato. Vi facciamo sentire la sua durezza. Ora andiamo a rimuoverlo con una forchetta. Non serve sforzare, verrà via da solo. È molto appiccicoso e vi travolgerà un odore pungente, a noi ricorda yogurt e aceto. Una volta avviato il processo di fermentazione, possiamo fare il primo rinfresco. Quindi preleviamo 100 grammi di lievito madre. Se avessimo scelto un vasetto più largo, si sarebbe formata troppa crosta e avremo buttato buona parte dell'impasto. Il nostro per magia è esattamente 100 grammi. Aggiungiamo 100 grammi di farina, lo stesso peso della pasta madre, e 50 millilitri di acqua naturale a temperatura ambiente depurata. Mescoliamo con un cucchiaio e quando non riusciamo più, trasferiamo sul banco da lavoro e continuiamo fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo, come la prima volta. Se mescolando notate che l'impasto è troppo secco, quindi la farina assorbe troppo l'acqua, aggiungete altri 5 millilitri di acqua, ma non di più. Formiamo una palla pirlando un po'. Prendiamo un nuovo vasetto, più alto e dal volume maggiore, 500 millilitri, lavato solo con acqua calda. Trasferiamo la pallina all'interno. Come l'altra volta segniamo il livello di partenza con un elastico e questa volta copriamo il vasetto con un pezzo di carta scotex da cucina. Fissiamo con un altro elastico e tagliamo l'eccesso con una forbice. Infine mettiamo in cucina sempre a temperatura ambiente e lontana da fonti di calore per altre 48 ore. Eccoci qua dopo altri due giorni. Il lievito madre ha cambiato completamente struttura rispetto alla prima fermentazione. Si sono formati molti più alveoli e di dimensioni inferiori. Anche questa volta ha formato un bel crostone abbastanza duro. che togliamo con molta facilità. L'odore è quello solito, di yogurt e aceto. Adesso prendiamo 100 grammi di pasta madre. La consistenza è ancora molto appiccicosa ed elastica. La precisione della mamma non sbaglia mai. Aggiungiamo 100 grammi di farina tipo 2 macinata a pietra, 50 millilitri di acqua naturale depurata a temperatura ambiente e mescoliamo con il cucchiaio gli ingredienti. Poi lavoriamo con le mani per 2-3 minuti sul piano da lavoro. L'acidità del lievito madre è determinata dai batteri lattici, responsabili della produzione di acido lattico, e dai lieviti, che producono acido acetico, contribuendo quindi a determinare l'acidità acetica. Formiamo una palla, poi prendiamo il nostro vasetto, lavato sempre e solo con acqua calda, ci trasferiamo la pasta madre e questa volta copriamo con il suo tappo. Lo appoggiamo semplicemente senza avvitarlo, così il gas all'interno possono uscire. Infine lo riponiamo in cucina a temperatura ambiente per altre 48 ore. Dopo due giorni il lievito ha triplicato di volume, restando qualche centimetro sotto al tappo. I batteri hanno continuato a cibarsi del glucosio e producendo gas hanno formato molti alveoli. Togliamo la crosta, un po' meno soda del solito. Abbiamo deciso di aumentare di volume, quindi al posto di 100 grammi ne preleviamo 150, perché quando sarà il momento di panificare, dovremo rinfrescare l'impasto e l'altra metà la dovremo utilizzare per le nostre ricette. Come sempre è liscio e colloso con il solito odore acido. Siccome questo è il terzo rinfresco, cambiamo anche la farina. Quindi dalla farina di tipo 2, con la quale abbiamo dato vita alla pasta madre, passiamo ad una farina di tipo 1, per avvicinarci di più alle farine che utilizziamo di solito. Invece, se utilizzate sempre farine integrali o farine di tipo 2, potete continuare ad usare quella di tipo 2 per i rinfreschi. Quindi aggiungiamo 150 grammi di farina di tipo 1 e 75 ml di acqua naturale depurata a temperatura ambiente. Perché 75 ml? Perché deve essere sempre la metà del peso della farina. Continuiamo con il solito procedimento. Aumentando il peso del lievito madre, avremo bisogno di farlo raddoppiare in un contenitore di vetro più capiente. Il nostro è dal volume di 1 litro, lavato come al solito solamente con acqua calda. Togliamo la guarnizione dal barattolo, così da permettere all'aria di girare. Ci trasferiamo la palla e appoggiamo il coperchio. Non lo chiudiamo ermeticamente. Infine, mettiamo in cucina, dove è sempre stato, fino al raddoppio, ad una temperatura stabile. La nostra è di circa 20 gradi. Impiegherà 3-4 ore. Quando il lievito madre avrà raddoppiato di volume, lo riponiamo nel ripiano più alto del frigo, dove solitamente c'è meno freddo e lo lasciamo a fermentare per 48 ore. Da oggi in poi, dovremo ripetere questo procedimento ogni 2 giorni fino ad arrivare a 3 settimane dal primo rinfresco compreso. Se la temperatura è inferiore, ad esempio come in inverno, richiederà più tempo per raddoppiare. In estate, al contrario, ne impiegherà molto di meno. Se la temperatura nella vostra cucina è superiore ai 20 gradi e la pasta madre raddoppia in 30 minuti in un'ora, trasferite subito il barattolo in frigo. Eccoci qui dopo 3 settimane dal primo rinfresco. Da oggi dovremo rinfrescarlo per un'altra settimana, non più ogni 48 ore, ma ogni giorno, con i soliti procedimenti. Aggiungiamo alla dose di 150 grammi di lievito madre, 150 grammi di farina di tipo 1 macinata a pietra e 75 millilitri di acqua naturale, come al solito depurata e a temperatura ambiente. Dopo aver trasferito la pallina nel barattolo, lasciamo a raddoppiare nel solito posto in cucina per poi trasferirlo in frigo fino a domani. Guardate che bello il nostro lievito madre dopo un mese di rinfreschi. Ora è sano, in forze, correttamente sviluppato e pronto per panificare. È più compatto del solito, ma sofficio al tatto e non più appiccicoso. Inoltre ha solo un leggero profumo di yogurt. Quando vorrete panificare e fate il rinfresco, una volta raddoppiato dovete subito mettervi all'opera, perché se triplica perderà buona parte della sua forza lievitante. Da oggi in poi dovremo rinfrescarlo per il resto della sua vita ogni 3-4 giorni, anche se non panificate. Così rimarrà in vita e in forze. Ne pesiamo 150 grammi e aggiungiamo acqua e farina. Se andate in vacanza, dopo che avete rinfrescato la pasta madre e ha raddoppiato, la mettete in freezer. Quando tornerete, la mettete in frigo nel ripiano più alto per tutta la notte. Il giorno dopo lo tirate fuori e lo lasciate ad acclimatare per due ore. Poi procedete con il rinfresco, togliendo sempre il crostone in superficie. Fate il rinfresco, lasciate raddoppiare e mettete in frigo come sempre. Il nostro lievito madre ormai è pronto. Da oggi in poi lo dovremo conservare in frigo e rinfrescare ogni 3-4 giorni. Prossimamente uscirà un video completo su come creare il pane con il lievito madre. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie. Grazie a tutti.